ma quanto è bello tra l'altro pure buono panna e fragola raga panna e fragola dai non fate i soliti morti di patata per favore it's a joke comunque raga sto registrando ciao e basta minchia ma perché è tutta forma fallica in casa mia raga non lo faccio apposta comunque vi ricordo che domani dalle 15 alle 20 sono a padova a cazzo non mi ricordo più il nome del negozio the vape club via a pacinotti 1 minchia quanto mi stanno di merda questi occhiali ma veramente sono enormi no è la mia faccia che è piccola allora non vorrei fare troppi doppi sensi va bene però questo porca puttana comunque ecco in breve quello che volevo dire è che lui sta durando più di voi a Grazie a tutti.